Buon 25 aprile, sono Carlo Puddu, direttore della sezione italiana di Liberation Route Europe. Liberation Route è un'esperienza nata in Olanda nel 2008, oggi diventata fondazione, con 9 paesi membri e più di 100 partner in tutta Europa, Stati Uniti e in Canada. Di cosa si occupa Liberation Route? Liberation Route si occupa di valorizzazione dei luoghi della memoria relativi alla Seconda Guerra Mondiale, quindi una grande rete internazionale in continua espansione che mette intorno a un tavolo soggetti interessati al racconto della Seconda Guerra Mondiale. Possono essere comuni, regioni, associazioni, centri di ricerca, musei, tour operator, guide turistiche, soggetti interessati a promuovere e a tramandare un racconto estremamente importante, urgente, complesso e drammatico. Per fare questo Liberation Route Italia ha un comitato scientifico composto da 11 storici e studiosi. Uno dei soci più prestigiosi della nostra associazione è l'Istituto Nazionale Ferruccio Parli. Questo ci permette quindi di portare al di fuori dei confini nazionali il giusto racconto della liberazione d'Italia, un racconto che tiene conto della lotta, della resistenza, dell'arrivo degli alleati e delle varie vicende, che ripeto, complesse, che hanno coinvolto e travolto il nostro Paese durante il conflitto. Quindi buon 25 aprile, buona festa della liberazione, la festa di tutti gli italiani, la festa della vita riconquistata, della libertà, della libertà riacquisita. Buona giornata e buona liberazione.